sto sudando l'anima se non si è capito qui c'è un caldo boia però per la scienza questo ed altro adesso passiamo al formato parallelo a quello vinilico che 60 e 70 era disponibile in massa poi ha avuto un mega successo negli anni 90 con la morte con gli anni 2000 dovuto agli mp3 stiamo parlando delle cassette o formati su nastro perché anche lì ci sono vari formati io ne ho qualcuno ma non tutti quelli che sono stati commercializzati che posso comunque citare o ecco qua in tutta la loro bellezza la sezione dedicata ai formati su nastro ovviamente la più nota ovviamente più utilizzata danno italiani la classica cassettina che ne abbiamo avuto in macchina abbiamo ascoltato miliardi di volte ci avevano registrato comunque cosa dalla radio dalla dai dischi degli amici duplicate cassette questo è un formato che conoscete tutti benissimo e come ben vedete è semplicemente stereo benché il formato della cassetta contenga in realtà quattro tracce ovvero per ogni lato ci sono due tracce incise quindi se deve girare da una parte in un senso legge due piste nell'altro senso ne legge altre due quindi fino a quattro piste e lo stesso formato è stato utilizzato come multitraccia per piccoli piccole sale prove per sperimentazioni in casa però soltava i quattro le quattro piste come fosse un mini mixer quindi si potrebbero registrare contemporaneamente quattro tracce separate da mixare poi successivamente sovraincidendo magari solo la parte di chitarra o solo la voce o solo il pianoforte per esempio era molto comodo nell'ambito della registrazione non da studio professionale ma comunque domestico mentre questa cosa si è ribellata alla sua piega è svenuto questa è la cassetta ma da dove nasce la cassetta la cassetta nasce da un formato molto vecchio nato inizialmente su nastro non su nastro come lo conosciamo noi su pellicola ma su filo elettrico in pratica c'era un filo elettrico che veniva avvolto dentro delle bobine che io non ho ovviamente dentro delle bobine veniva utilizzato come registratore audio una cosa che hanno inventato credo i tedeschi o qualcuno l'ha inventato durante sostanzialmente prima della guerra e esistono nei musei anche rai delle dimostrazioni di registrazioni fatti con quello per esempio la radio cronaca di una partita del mondiale del 38 se non erro è disponibile sul sito della rai molto interessante ed è fatto non su una stra pellicola ma su filo di ferro che viene magnetizzato da una testina quindi il ferro cambia sostanzialmente la sua configurazione elettrica e mantiene questa configurazione nel tempo quindi restando questo dato memorizzato per sempre a meno che non venga magnetizzato volutamente o involutamente quindi il formato più vecchio dopo quello sono le bobine a nastro che sono queste questa già di fine anni 70 ma diciamo che il formato da 10 pollici come questo esiste dagli anni 50 e veniva utilizzato in studio lo spessore della della pellicola che questo era sostanzialmente il metro di di utilizzo per cui più era larga più tracce poteva incidere in questo caso siamo fino a quattro tracce che è la stessa misura che in realtà potrebbe ottenere anche la cassetta ma essendo così largo la qualità è superiore perché ha più banda a disposizione non solo per la larghezza ma anche per la velocità con cui viene riprodotto ma queste sono cose molto tecniche che comunque non fanno cambiare il risultato se non per gusti personali di qualità eccetera e questa è la bobina questo modello tech e del 79 e quadrifonico come vedete a 4 view meters ma può anche essere utilizzato per registrare traccia per traccia ai vari ingressi microfoni separati ma li può gestire sia come canali 1 2 3 4 che come front r ovvero frontale e posteriore quindi può leggere e registrare bobine quadrifoniche che sono state forse la prima cosa commerciale in ambito quadrifonico e in questo caso non c'è da decodificare nulla perché le tracce quattro erano e quattro venivano utilizzate allo stesso modo per utilizzo come dire in auto e in casa negli anni sessanta si è inventato un sistema chiamato stereo 8 sono delle cartucce questa è un ad esempio che ha questa forma qui non ha un sistema di trascinamento come le cassette o come le bobine ma sostanzialmente un sistema particolare per cui la parte iniziale del nastro è collegata direttamente alla parte finale per cui viene tirato il nastro qua sul lato destro in questo caso è mentre tira fuori il nastro lo rimette anche dentro per cui più è una sorta di spirale infinita infatti viene detta un sistema a loop infinito è nella parte di inizio e fine c'è un piccolo nastrino in alluminio sembra carta alluminia ma è sostanzialmente alluminio che una volta che tocca un sensore fa cambiare traccia al lettore di queste stereo 8 questa in particolare quadrifonica perché l'estero 8 significa che poteva avere fino a otto tracce otto tracce in stereo vuol dire che aveva quattro programmi potete vedere qua quattro programmi stereofonici però avendo quattro programmi in buona sostanza cambiava programma ogni metà disco in vinile se volete o metà cassetta audio normale mentre la versione quadrifonica rispettava il cambio programma come i vinili e le cassette ma potevano leggere contemporaneamente quattro traccia per volta quindi aveva la possibilità di essere quadrifonico già alla nascita o se avessero mai inventato qualcosa del genere fino a otto tracce contemporaneamente verrà un bel sistema a multitraccia se pensate che i beatles sono sono stati capaci di registrare su quattro tracce soltanto praticamente tutta la discografia e solo alla fine sono arrivati a otto tracce mi fa pensare qual è il potenziale tecnico tecnologico già per una cosa domestica questi sono silzencroft ve lo consiglio un disco molto bello orecchiabile del 72 questo è quadrifonico e lo mettiamo in questo suoni c'è un secondo lettore della h i questo anche lui quadrifonico ovviamente legge anche i nastri stereofonici ci mancherebbe altro questo è anche capace di registrare ma il suo punto di forza è che il sistema di trascinamento del nastro di motore eccetera eccetera è preso direttamente dai sistemi a bobina quindi molto affidabile molto preciso mentre questo è un po meno preciso anche se suona molto bene poi abbiamo l'altro lettore bobine questo è per bobine un po più piccole perché anche in questo caso le bobine commerciali c'erano quelle costose quelle meno costose che significa significa che in base alla velocità di lettura della pellicola la qualità cambiava ovviamente più veloce era letta la pellicola è meglio si sentiva la qualità arrivava addirittura a sfiorare quella dei nostri compat disk per cui diciamo già dagli anni 50 si poteva raggiungere delle qualità sonore notevoli lui è in grado di leggere a due velocità quella più comune standard per le bobine che in questo caso in pollici ma è una misurazione standard ovvero da se riesco a leggere da tre e tre quarti al secondo cioè tre pollici e tre quarti al secondo oppure 9,5 cm al secondo oppure da 7 pollici e 12 ovvero 19 cm al secondo quindi il passaggio della pellicola attraverso la testa audio era per ogni secondo 19 cm di di naso quindi va piuttosto velocemente e questo ne identifica la qualità migliore di incisione ovviamente costavano meno quelli registrati a 33 quarti e quelli a 7 e 12 altra cosa curiosa che questo valore di 9 cm e mezzo o 33 quarti è esattamente il doppio della velocità della nostra ben amata cassettina quindi immaginatevi la qualità della pellicola di una cassetta però letta al doppio o addirittura il quadruplo della velocità di una cassetta si arrivavano veramente a dei picchi di qualità notevoli e questo modello è un modello che ho acquistato dagli stati uniti online così come lui così come il dbx così come questi due noise reduction dolby è molto bello suona bene questo è un sistema di selezione tipo centralino telefonico dove io vado a dire voglio sentire quello blu quello giallo quello rosso eccetera eccetera così da non avere se lettori che non esistono i sistemi dolby li conosciamo per le cassette dove veniva già inserito nella nell'apparecchio ma nei primi anni 70 era un'unità separata in una prese due perché sia su bobina quadrifonica o stereo sia su stereo 8 quadrifonica o stereo i primi sistemi dolby venivano utilizzati per migliorare un attimino la differenza tra il suono e il fruscio perché purtroppo il fruscio è sempre stato una un'arma doppio taglio sul sistemi a nastro e questo è quanto riguarda la sezione nastri curiosamente qui abbiamo queste due cosettine più una terza che non c'entra niente poi vi spiego perché questo è un equalizzatore quadrifonico della gbc che tra l'altro rivisto da poco in una trasmissione rai te che te che te durante una scenetta molto simpatica ed era raro anche trovarli persino in televisione non se ne parlava tanto mentre quello sotto è un oscilloscopio audio per cui se uno volesse ma è una cosa molto scenica in realtà più che di utilità può vedere muovere le onde sonore all'interno di un di un quadro questo caso essendo quadrifonico appunto abbiamo il lato sinistro in alto che il sinistro il destro lato destro in alto il destro e così via quindi si muove come una sorta di radar che dimostra la disposizione dei sogni al messaggio ed è molto simpatico oppure canale per canale vedete la forma d'onda svilupparsi nello schermo nello schermo appena possibile vi faccio vedere come funziona